Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce il mio nome è La Risposta, ho 18 anni e frequento la comunità scientifica per le scelte applicate. Quest'anno ho deciso di candidarmi all'ora di rappresentare l'istituto per cercare di migliorare la vita all'interno della scuola di uno di noi. Negli scorsi anni sono state fatte tante promesse e quasi va mantenute, per questo non vi prometto grandi cose, ma vi assicuro che l'iniziativa sarà studiata al meglio per l'intera scuola. Ho deciso di porre l'attenzione su un punto per me molto importante, ovvero il coinvolgimento di tutti gli studenti. Voglio infatti che ogni studente si senta parte di una comunità, dove può parlare dei problemi che nascono all'interno della classe o all'interno dell'istituto. Non solo parlare dei problemi, ma anche magari dare consigli e fare delle critiche, perché le critiche fanno bene purché costruttive. La proposta ordinale mi sembrava la creazione di un archivio online per gli appunti degli studenti e dei professori. Per me che studio informatica potrebbe essere anche un ottimo approccio appunto alla materia. La seconda è l'iniziativa del sutto green, per sensibilizzare la gestione dei ragazzi, ovvero l'installazione degli aiutati d'acqua, e magari anche la proposta di regalare a ciascun all'uno delle bollacce in metallo, per diminuire appunto l'elevato consumo di plastica e per vivere un segno di vita del sutto plastic free. Un'altra iniziativa che vorrei sviluppare è quella di portare il cinema a scuola. Sarebbe molto costruttivo, una volta al mese, visionare un film per affrontare appunto tematiche educative. Per ora questi sono tipi che i cambiamenti nascono sicuramente dalle piccole azioni e io voglio provarci se voi me ne darete la possibilità. Vi auguro di votare che più vi rappresenta senza condizionamenti esterni, votate con coscienza e pensate al futuro della vostra scuola.